Io mi comporto come mi comporto con Andrea con tutti i miei amici fuori E si vede che c'è un interesse oltre l'amicizia Ma da parte mia? Eh sì Ma no, assolutamente no Sta cercando di insinuare che lei si prova con me Così la gente pensa male allora perché siccome io sono fidanzato Costantino è nato per inzigare Quando uno lo sa Prende atto di ciò Però bisogna farlo con le persone giuste A me basta che non mi presti i piedi a me Se mi presti i piedi a me